Scrivimelo! Ma di prima era la 7 Sicuro? Oh raga dopo questa, cena e cena pranzo Ma questa qui prima non è passata? Sì Sì ma passano passerega tipo E' ricognizione Bene le storie stanno facendo ripartire questa giornata con la terza tampa con la seconda Sì 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. 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 e poi si racconta 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 rossetti e poi si racconta e poi si racconta e poi si racconta si racconta e poi si racconta e poi si racconta e poi si racconta e poi e poi si racconta 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 e poi si racconta